sbarca l'intelligenza artificiale su adobe photoshop non l'ho ancora provato ho semplicemente avuto l'accesso per provare la versione beta però ve lo faccio comunque vedere un attimo quello che vi faccio vedere adesso è il comando che sarà prestissimo disponibile all'interno di photoshop e sto parlando di tutti quelli che sono abbonati quindi che hanno l'abbonamento sempre aggiornato del programma e vediamo un po nella pratica che cosa è questo nuovo comando allora vado a prendere un'immagine che ho scaricato dalla rete una qualunque presa così al volo la butto dentro diamo ok ed ecco qui un'immagine allora ce la ingrandiamo un attimo perché andiamo a creare le condizioni per farlo lavorare eccoci qui allora ammesso che noi avessimo questa immagine e volessimo andare a ricreare il paesaggio mancante su questo lato della foto adobe ci dice che possiamo semplicemente andare a selezionare questa zona dell'immagine qui in basso ci compare ogni volta che abbiamo una selezione ci compare questa stringa dove possiamo andare ad utilizzare il nuovo comando riempimento generativo ci clicchiamo all'interno ecco che ci dà la possibilità di fare due cose uno andare a creare una descrizione testuale per dire a photoshop di andarci a generare proprio quell'informazione specifica che gli stiamo chiedendo oppure di lasciare semplicemente al software di generare quello che secondo lui è più pertinente e più appropriato rispetto all'immagine che abbiamo caricato all'interno del programma ed è quello che faremo adesso andremo su genera e vediamo che si stanno caricando le informazioni questo strumento si utilizza solo online perché il programma deve poter andare ad attingere ai miliardi di informazioni presenti in rete ecco che ha quasi fatto ed ecco il risultato allora quando abbiamo aspettato una manciata di secondi ed ecco che il computer è andato a rigenerare la parte mancante della foto secondo il suo giudizio vi faccio vedere come era prima e vi vedere come adesso è andato a ricreare praticamente tutta la parte mancante della prato sul bordo strada ok ve lo faccio rivedere da questo punto di vista è abbastanza sbalorditivo ma non finisce qui perché so che se vado qui in basso a destra dove c'è scritto variazioni ho la possibilità di scegliere non una ma altre due opzioni che potrebbero fare di più al caso mio rispetto a quello che ha generato il computer personalmente preferisco questa prima opzione che è stata generata ma se tra queste tre opzioni non abbiamo trovato quello che ci soddisfa nessun problema perché può essere ricaricato informazioni all'infinito infatti se ridiamo di nuovo genera il computer andrà generare altre tre informazioni fino a quando non troverà l'informazione perfetta per quello di cui abbiamo bisogno ecco che ci ha generato una nuova informazione e se andiamo qui su variazioni troviamo adesso sei possibili scenari non soltanto i tre precedenti andiamo a vedere gli altri che ha generato questo questo e questi sono i precedenti tra questi ad esempio questo qui dove mi è andato anche a ricreare una parte delle montagne sullo sfondo mi sembra molto appropriato infatti mi piace molto ma andiamo a sfruttarlo in modo ancora più complesso qui in fondo vedo un complesso in costruzione voglio andare a dire a photoshop di mettermi qui una foresta allora lo strumento lanciato al momento è solo in versione inglese quindi le descrizioni testuali dovete andare a dargliele in inglese altrimenti non ve le riconoscerà però basta avere a portata di mano google traduttore e scrivete tutto quello che volete allora mettiamo una foresta vediamo che cosa ci genera ecco che andata a generarci degli alberi ma quello che è assurdo che è bellissimo è quanto sia coerente l'allineamento per quanto riguarda la prospettiva dell'immagine che andata a creare vedete c'era una piccola costruzione una casa un fabbricato in fondo e adesso abbiamo questi deliziosi alberelli su bordo strada direi che è fantastico c'è da lavorare tantissimo ancora sul concetto di intelligenza artificiale per quanto riguarda le immagini ma già questo veramente un passo avanti per quanto riguarda la tecnologia visiva grazie a tutti grazie a tutti